Per il Pescara una gara sulla carta proibitiva. Per Roberto Breda è l'ultima spiaggia. Domani alle 19 al Castellani, classico testa-coda tra Empoli e Pescara. Una partita che per questo delfino somiglia ad un Everest da scalare. C'è bisogno di una forte professione di fede per pensare che una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive possa fare punti contro un'altra che sta dominando la B, avendo un vantaggio di sei punti dalle seconde, che ha perso una sola volta in campionato e che anche in casa della Corazzata Monza ha confermato la sua consistenza. Breda ha bisogno di un miracolo per salvare la panchina. La dirigenza bianca-azzurra ha anche pensato all'esonero dopo il match con la regina. Partita che doveva far iniziare la riscossa ma che si è rivelata l'ennesima prova senza nerbo e senza grinta. Un trend che neanche i nuovi hanno invertito. Un po' in pochi giorni tra una gara e l'altra, un po' la complessità della partita, hanno consigliato di aspettare. A seguito del mercato, Breda aveva cercato di cambiare assetto per mettere un giocatore in più in attacco e uno in meno in difesa, ma la mezza partita con la Salianitana e le due con Chievo e Regina hanno dato risposte negative. E allora dietro fronte per domani sera è pronto il ritorno al 3-5-2. E allora nel trio di difesa si rivedrà Scognamiglio con Bocchetti e Gut. Non è ancora in condizioni di giocare 90 minuti Drudi. Balzano preferito a Belanova come quinto di destra. A sinistra Masciangelo è avanti rispetto a Anzita. L'ex Valdifiori di nuovo titolare. Mezziali, Tabanelli e Rigoni, quest'ultimo in vantaggio su Busellato, a guidare l'attacco sarà Seter, sostenuto da Macin. Breda è pronto a dare questa importante chance al fantasista guineano, nonostante alcuni comportamenti sopra le righe e la multa per motivi disciplinari. Partire dalla panchina Odgard. Tornano in lista convocati Galano, Vokic e Fernandes. Mancheranno De Sena, squalificato, Riccardi, Capone e gli indisponibili Memusciai e Giannetti. L'ex Salernitana si è sottoposto a ecografia che ha evidenziato un affaticamento muscolare. Sul fronte Empoli saranno assenti lo squalificato Furlan e gli infortunati Bandinelli e Sabelli. Recuperato l'ex Fiamozzi che si candida per una maglia in difesa. Nell'ambito di un mini turnover, ipotizzabile l'impiego di Ricci e Zurkowski, difficile invece far riposare l'altro ex, Leonardo Mancuso, capocannoniere della cadetteria con 12 reti. La presentazione del match nelle parole del tecnico empolese Dionisi. Ci sono momenti del campionato in cui magari la classifica non rispecchia il valore della squadra e questo è quel momento per quanto riguarda Pescara. Sicuro che ha delle difficoltà, più o meno rispetto alla partita precedente, non lo so. Poi dipenderà anche da come la interpreteremo, da come risponderemo colpo sul colpo al Pescara che sicuramente, come ho detto prima, verrà qua per ottenere un risultato positivo a tutti i costi. E questo non deve sicuramente spaventarci, deve motivarci, sapendo che sia una partita diversa dalla precedente ma allo stesso tempo difficile come lo era quella precedente con Monza. Difficoltà diverse perché sono due squadre sicuramente con valori diversi in questo momento ma anche il Pescara ha dei valori.